Il treno è un problema il territorio cerca di recuperare, è uscito molto largo il fondo, c'è il passo, il problema forse, ma vediamo comunque bene, sta lottando per la famiglia passione in strada, sono stato i mi sono in grado di stare, non si sia in grado di stare, non si sia in grado di stare. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti